Quindi sono i temi che chiaramente io pongo, adesso abbiamo visto anche, vedo c'era Enrico Letta, qui ho visto e ho trovato molti interessanti, molti degli elementi che Enrico ha portato nel suo piano, ascolteremo adesso Mario Draghi anche con le sue valutazioni, penso che dobbiamo essere contenti al di là del fatto che io sono stato all'opposizione di entrambi, che però ci siano due italiani che vengono chiamati dall'Unione Europea a fare le loro valutazioni sulla competitività, il mercato unico, le grandi sfide dell'Europa, è una bella cosa e sono disponibile con tutti coloro che vogliono parlare di cose serie, perché penso che chi è davvero amico dell'Europa in questo tempo difficile non debba stare lì semplicemente a dire che va tutto bene. A proposito di cose serie, molto serie, c'è sicuramente la questione di a ruolo che il nostro commissario parlà in Europa, c'è qualche novità su deleghe, c'è qualche indicazione per chi seguirà poi in Italia la realizzazione del PNRR che è uno dei punti fondamentali rispetto agli investimenti del prossimo anno? E qui esce fuori il giornalista, direttore. Allora, vediamo, la settimana prossima dovrebbe arrivare qualche novità, penso che insomma siamo addirittura dal vivo sull'annuncio della Commissione da parte della Presidente della Commissione Europea.